Una commissione in grado di valutare l'originalità degli strumenti prodotti e venduti dai liutai cremonesi la propone l'unline per risollevare la liuteria cremonese dal fango in cui è piombata con la scoperta di un vero e proprio magazzino di violini in bianco arrivati dall'est e destinati con un'etichetta ad essere rivenduti come cremonesi. Un fenomeno che non è una novità ma che rischia di compromettere la produzione di qualità portata avanti sotto il torrazzo nel rispetto del metodo dei grandi maestri. Eppure c'è chi convive tranquillamente con una produzione pura e con violini acquistati in bianco e poi completati e messi in vendita da sempre. Sull'utilità dell'autocertificazione di un codice etico proposta dell'Ali ci sono dubbi? Gli enti che hanno in mano l'euteria devono, secondo il mio avviso, intervenire in modo da eliminare questo problema. L'autocertificazione è sicuramente uno dei fatti positivi però certamente non risolve il problema perché se una persona vuol fare il furba autocertifica ugualmente dicendo di aver fatto uno strumento con le sue mani mentre invece potrebbe essere fatto da altri o addirittura cinese. E' già di per sé questo un documento ufficiale per cui volendo si può davvero testimoniare che uno strumento è fatto dall'artigiano e con la tecnica della scuola cremonese eccetera. Coloro che hanno in mano le sorti della luteria cremonese sono il Museo del Violino, sono il Comune, la Camera di Commercio, il Consorzio. Cioè praticamente se tutti uniti vogliono risolvere il problema secondo me lo possono fare. Poi logicamente sta all'iutaio accettare o meno. Se però non accetta non può comunque inserirsi nel discorso UNESCO. E' un problema che non si risolverà nel caso in cui un'ipotetica commissione comprenda allo stesso tempo controllori e controllati. Non si fa attendere il lancio d'accuse rispetto al fenomeno appena emerso e già diventato notizia di rilievo nazionale e internazionale ma in realtà sempre esistito anche se con numeri più contenuti. Secondo qualcuno la responsabilità dei violini in bianco spacciati come originali sarebbe da scrivere agli organismi stessi che si occupano della luteria che per primi hanno permesso facilitato lo state dell'arte attuale, un mercato inquinato e la possibilità che l'UNESCO ritiri il riconoscimento del sapere e del saper fare l'utario. Molti poi sono i dubbi relativi alla governance della liuteria, da molti visti come un ente formale capace però di influenzare il mercato. Oggi chi non rientra in consorzio e associazioni si sente tagliato fuori, tanto da denunciare mancanza di informazione oltre la gravissima assenza di una legislazione in grado di tutelare il nome dei liutai.